Ciao a tutti ragazzi, scusate per il video un po' così, anche forse abbastanza off topic rispetto al solito. Io sono vestito in questo modo perché ho fatto un po' di sport stamattina e non avevo intenzione di fare video fino alle 18, quando poi l'evento si andrà ad affrontare l'Empoli, una partita complicata in cui siamo in difficoltà, lo sapete, mille infortuni abbiamo parlato, formazione quasi obbligata, però mentre poi camminavo per recuperare energie e perché c'ho un polpaccio che dopo una settimana di preparazione ricominciata post-Covid sta iniziando a dar fastidio, quindi è meglio sciogliere un po' questi muscoli che quest'anno andranno verso i 30, ho avuto modo di riflettere perché stamattina un tesserato della Juventus ha preso una posizione netta, chiara, definita, e cioè Wojciech Szczesny, detto Tech. Tanti mi continuate a chiedere perché scrivi Tech, perché il suo nome si pronuncia Wojciech Tech e quindi per appreviare Tech, quindi per noi italiani è un po' complicato scrivere correttamente il suo nome e il suo cognome e quindi è il buon vecchio Tech. Che cosa ha fatto Tech? Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post con le bandiere di Polonia e Ucraina, dato che l'altro giorno vi avevo parlato di questa sfida playoff qualificazione mondiale che si sarebbe dovuta svolgere il 24 di marzo, che in teoria si svolgerà il 24 di marzo, e Tech cosa dice? Io mi rifiuto di scendere in campo per giocare una partita contro una federazione e contro calciatori che vanno a condividere le idee di quello che sta accadendo in questo momento. Perché dice questo Szczesny? Per un motivo. Sua moglie, purtroppo per quello che sta accadendo in questo momento, è Ucraina, quindi dice il sangue di mio figlio è per me tra ucraino, ucraino, perché anche qua c'è sempre questa via di mezzo che non ho idea di quale sia più corretta, quindi magari chiedo anche a voi per non sbagliare più in futuro, e Tech dice anche gran parte della mia famiglia è ancora in Ucraina, e quindi mi sembra doveroso da parte mia per quanto rappresentare la nazionale, per quanto giocare con la nazionale sia il più grande privilegio per un calciatore come me, non capite quanto mi costa dire queste parole, ma non scenderò in campo in questa partita. Due palle grosse così, eh? Ragazzi, due palle grosse così perché ammettere pubblicamente questa roba è tanto, fa veramente tanto. Poi qua possiamo aprire un discorso perché qualcuno l'ha detta, l'ha vista sotto il punto rivista quasi razzista, nel senso ecco Szczesny ce l'ha con i russi, ma non è tanto questo il discorso, anzi io in questi giorni mi sono veramente commosso nel vedere tante foto di magari un uomo russo e una donna ucraina, o viceversa, che con le bandiere, con i passaporti si baciavano, facevano vedere i figli, gli mostravano al mondo intero che quello che sta succedendo è qualcosa di isolato e che non rappresenta per forza di cose il popolo intero. E infatti mi dà un po' fastidio in questo momento continuare a sentire i russi, gli ucraini e farvi in modo di capire che tutta l'erba un fascio, quindi tutti i russi la pensano così, tutti gli ucraini la pensano colà. Ed è un modo sbagliato, secondo me, di ragionare nella vita, proprio in generale. E proprio perché questo è un canale di calcio e non voglio focalizzarmi su queste cose, ma voglio parlare magari anche di cose che accadono nel mondo in relazione a quelle che accadono nel calcio, è un po' il discorso che ho sempre fatto in riferimento a tanti commenti che magari mi ritrovavo, perché magari qualcuno per farmi un complimento arrivava sotto i video e mi scriveva oh cavolo, uno juventino onesto, uno juventino che parla bene di calcio, incredibile sentire queste cose da uno juventino. E secondo queste persone questo è un complimento, no? Della serie tutti gli uventini sono coglioni, ladri, disonesti, tu invece sei l'eccezione che conferma la regola, tu sei un bravo juventino, uno juventino bravo. Capite quanto hai follia? A me sembra assurdo nel 2022 dover spiegare queste cose che, ribadisco, stavamo parlando di una cosa serissima, importantissima, come la guerra, ma sono gli stessi principi applicati alla vita e al calcio, allo sport, alla quotidianità. Quindi sentirsi dire queste cose è assurdo, come quando noi juventini tante volte diciamo ecco i tifosi del Napoli, i napoletani, cosa hanno i napoletani? O i tifosi della Roma, i tifosi interisti, noi andiamo, noi intendo tifosi, andiamo a focalizzare a seconda della squadra che si tifa, andiamo a etichettare una tifoseria. Soltanto in base a quello. Ed è follia. Ed è follia. E tra l'altro è una grande fortuna, mi viene da dire, poter vivere in un'epoca come questa e vivere dove abitiamo noi, dove viviamo noi, dove possiamo azzardare anche ad esprimere opinioni. Io di lavoro, di mestiere faccio l'opinionista. Capite bene che mai come in questi giorni mi sto accorgendo di quanto io debba riterermi soddisfatto e fortunato di vivere in un paese in cui questa cosa è consentita. Perché tante volte ci scontriamo sui discorsi frivoli. Perché di discorsi frivoli stiamo parlando come mi piace il presidente, mi piace l'allenatore, mi piace il calciatore, mi piace il dirigente. O non mi piace il presidente, non mi piace l'allenatore, non mi piace il calciatore, non mi piace il dirigente. Capite bene che la possibilità di dire queste cose, la possibilità di dire bravo o non bravo, idoneo o non idoneo, è qualcosa di grande. Addirittura viviamo in un mondo in cui possiamo permetterci di dire Agnelli è un deficiente, Allegri è un coglione, o viceversa, Allegri è perfetto, Agnelli non lo toccate assolutamente. E sono due posizioni differenti, secondo me molto estreme, e infatti a me non piace mai l'estremismo. E anche l'altro giorno su Twitter l'ho fatto notare, perché se diciamo che in questo momento Allegri non ha nessuna colpa, siamo nel torto. E se invece pensiamo che anche la luce valgo di mia sfocera sia colpa di Allegri, siamo comunque nel torto. In mezzo c'è sempre quella sfumatura grigia che va a accompagnare il bianco e il nero, e noi di bianco e nero ce ne intendiamo, ma sarebbe ora di iniziare a parlare anche del grigio. E abbiamo davvero la fortuna di poter esprimere queste opinioni, perché abbiamo la possibilità di dire quello che pensiamo, che sia giusto, che sia sbagliato, è la nostra opinione. Poi è ovvio che quando sfocia nell'offesa, secondo me, l'opinione viene sempre meno, viene sempre a mancare. Se diventi automaticamente colpevole, vai nel torto, perché lì non sono opinioni, sono cose che vuoi dire, perché magari vuoi andare a toccare determinati tasti, vuoi dire determinate parole nei confronti di una determinata persona, ma noi viviamo noi in Italia, qui viviamo in una società, e siamo molto fortunati di poter vivere in questa società, con tutti i problemi che accompagnano l'Italia, non devo essere io a elencarne, non devo stare qui a parlarne, ce ne sono innumerevoli, ma siamo fortunati, siamo veramente fortunati. E credo che sia una grande fortuna anche che uno sportivo come Tech, e io sono orgoglioso di avere uno come Tech che si mette in prima linea, e sono soddisfattissimo di leggere che ha un'opinione ben chiara e ben definita, che lo coinvolge direttamente all'interno del suo nucleo familiare, e si mette in gioco per difendere il suo nucleo familiare, e anche i suoi valori umani. E non è poco, e lo sappiamo bene, perché anche solo vedere in Russia, San Pietroburgo, tutte queste persone che si sono riunite per dire no alla guerra, avete visto come sono state trattate, avete visto a cosa sono andati incontro, avete visto cosa poteva accadere a tutti quelli che sono andati lì a fare quella roba, lo avete visto con i vostri occhi, lo abbiamo visto con i nostri occhi, ed è terrificante. Quindi tutte le volte che, nella banalità, parliamo di un evento sportivo, o abbiamo la possibilità di criticare qualcuno, sia a livello governativo, sia a livello lavorativo, sia a livello sportivo, ludico, in compagnia con i nostri amici, tutte le volte che abbiamo la fortuna di poter esprimere un'opinione, ricordiamoci che ci sono, nello stesso annus domini, nella stessa linea temporale che stiamo vivendo noi, delle persone che purtroppo sono obbligate a dire tutta un'altra cosa. Ricordiamocelo sempre, anche solo quando banalmente parliamo di calcio. E il calcio purtroppo si intreccia con la quotidianità e con quello che accade tutti i giorni nel nostro mondo. L'altro giorno è stato, ieri, decretato che non si giocherà in Russia la finale di Champions, se non si giocherà a San Pietroburgo, si giocherà a Parigi. Poi anche qua c'è stata la diattriba, la discussione inerente al fatto che, guarda caso, proprio a Parigi, proprio perché il PSG è adesso amico della UEFA di Seferin. E anche queste sono opinioni che abbiamo la fortuna di poter esprimere. Perché se davvero fossimo all'interno di una dittatura o di una dittatura camuffata, come magari è stato detto tante volte negli ultimi due anni anche a causa del Covid, certe cose non avremo semplicemente la fortuna di poterle dire. E quindi tutte le mattine quando ci svegliamo dobbiamo fare questo ragionamento e rendere e sottolineare come la possibilità di esprimere l'opinione sia davvero una cosa forte, figa. E non tutti siamo così tanto fortunati. Niente, scusate, qualche pensiero così, ma sono particolarmente toccato da quello che sta accadendo in questi giorni e sono anche felice di vedere le reazioni da parte del mondo del calcio come lo Schalke 04 che toglie la scritta Gazprom dalle magliette come la UEFA costretta a cambiare la finale come i giocatori che dovranno giocare contro la Russia che iniziano ad essere titubanti per via di quello che sta accadendo quindi è impossibile non parlarne nemmeno lato calcio e ho voluto cercare di dare anche una direzione lato Juventus nello specifico che è quello che più mi preme. Ci vediamo per il post partita live reaction e tutto quello che ne deriva questa sera. Forza Juve. Dai che con l'Empolo è importante dopo i pareggi di Milan e Inter ieri sera sono qui che mi mangio le mani che abbiamo lasciato indietro tanti di quei punti e vabbè andata così cerchiamo di non lasciarne più indietro altri.